Ci sono sette leve motivazionali, tu chiediti di queste sette qual è quella che ti motiva di più. La prima leva si chiama status, status significa essere percepito come un esperto, c'è gente che è motivatissima dal fatto di essere percepita come un esperto, come un professionista. La seconda è l'esteriorità, che è anche questa una leva motivazionale, apparire belli oppure ricchi oppure eleganti, apparire. Tre, autonomia, sentirsi indipendenti. Se è dipendente nel senso tecnico colui o colei che dipende, sclera, deve sentirsi indipendente. La quarta è approvazione, sentirsi accettati. C'è gente che prova gratificazione nel sentirsi accettati, appartarsi, stare nell'ombra. C'è gente che non ama essere sotto i riflettori, è motivata dallo stare nell'ombra, lavora bene se sta nell'ombra. La sesta è competitività. C'è gente che trova motivazione nel gareggiare e nel provare a vincere, almeno nell'essere nelle condizioni di poter competere. E l'ultima è eccellere. C'è gente che è motivata dal fatto che migliora. Fa di tutto per migliorare, non si ferma, non si siede, impara da ogni esperienza della vita, ha gli occhi spalancati, le orecchie aperte, fa autoformazione. Avete individuato quella o quelle che più di altre vi interessano, vi appartengono e vi motivano?